bene allora intanto buonasera a tutti benvenuti nuova serata nuovo lunedì intanto ringrazio tutti per la presenza saluto l'icia stasera in regia ciao l'icia ciao luca buonasera a tutti eccoci qua l'icia come sempre ci aiuterà alla fine leggerà un po le domande che scrivete perché sapete che io non la posso leggere perché sono direttamente con zoom e leggerà delle domande riguardo la serata intanto qualcuno avrà già notato che ho ribattezzato questi incontri come il clun e di sera live in realtà mi sento un po fiorello in queste in queste occasioni mi sento un po di giochi perché molto divertente io amo l'ironia quindi ecco allora queste serate da oggi prenderanno il nome del clune di sera live perché ovviamente siamo live per il momento insomma la diciamo il format rimane questo rimane questo che dire intanto grazie a tutti per come sempre per tutte le mail che ci mandate per tutte le richieste oggi argomento importante argomento importante perché andiamo a toccare qual è la fisica e la biologia di quel famoso processo di affinità di quel famoso principio di affinità di quella legge d'attrazione insomma che cosa avviene fisicamente biologicamente nel processo di modellamento della della realtà e degli eventi tema scottante anche questo quindi condividete il video taggate i vostri amici qui sotto divulgate più che potete insomma perché questo solo voi lo potete fare quindi cosa parliamo stasera parliamo di quali sono i meccanismi biologici perché esistono dei meccanismi biologici assolutamente sì ma più che altro perché ci serve saperlo non ha uno scopo preciso a sapere il come avviene questo processo e il problema è che dobbiamo in qualche modo accontentare anche la fame di conoscenza della mente perché altrimenti la mente rischia di boicottarci siccome non non conosce un processo logico cognitivo che ci porti a comprendere qual è il processo ebbene ci può portare questo a non credere e sappiamo che in realtà tutto è di peso dalle credenze fondamentalmente iniziamo con un discorso quando anzi due presupposti importanti la prima quando parliamo di leggi d'attrazione in generale in realtà deriva da un da un possiamo chiamarlo argomento sì da un da un principio ecco adesso non mi veniva la parola da un principio molto più antico in realtà non se ne conoscono le radici quindi è tra l'altro un principio presente in quasi tutti i filosofismi in quasi tutte le tradizioni animiche tutte le tradizioni filosofiche che è il principio di affinità cioè oggi abbiamo conosciuto la legge d'attrazione attraverso questo famoso libro da secret che vi consiglio comunque di leggere ebbene cosa succede che cosa ci dice questa legge di attrazione ci dice che attraiamo a noi ciò che vogliamo in realtà non è così questo principio ha radici molto più antiche e prende spunto dal principio di affinità questo giusto per conoscenza cos'è il principio di affinità molto semplicemente ci dice che noi attraiamo noi ciò che è simile a noi che è diverso cioè attraiamo a noi ciò che noi siamo anche qui c'è da capire bene che cosa vuol dire in un entrando in un analisi più dettagliata il simile non è inteso l'uguale inteso lo speculare mi spiego meglio se io mi comporto da dottore non attraggo dottori attraggo pazienti quindi questo è in realtà il principio di affinità quindi richiede anche un certo tipo di conoscenza quindi questo è il primo presupposto partiamo da lì secondo presupposto è che noi non creiamo nulla in realtà sono tre presupposti vabbè uno adesso lo vedremo poi strada facendo il secondo è che sto cercando le parole giuste per semplificare in realtà mi sono perso perché stavo pensando al terzo vediamo il secondo che volevo dire ok sì che in realtà noi non creiamo nulla noi modelliamo la realtà ecco questo è una cosa è un principio molto importante perché un conto è credere pensare di creare da nulla qualcosa un conto è credere o pensare di dar forma a qualcosa che già c'è quindi immaginiamo un po la realtà come un pongo come una pallina di pongo noi non facciamo altro che dar forma a questo pongo gli diamo una forma e in questo modo modelliamo gli eventi cioè è un processo di modellamento non di creazione possiamo dire che è un processo di co-creazione se vogliamo usare questa parola ecco il terzo principio in realtà è viene ben spiegato da quello che diciamo ora cioè il fatto che è il pensiero a creare la realtà no quindi al contrario di quanto c'è stato detto di quanto stiamo imparando non è il pensiero non è la mente a creare la realtà è il corpo perché il corpo funziona come un'antenna allora andiamo a vedere un po qual è quindi il processo fisico e biologico che ci porta diciamo così può essere una spiegazione interessante biologica fisica concreta che ci spiega per somme i capi in realtà qual è il processo fisico del modellamento della della realtà e degli eventi partiamo dalla fine partiamo da un esperimento che è stato fatto per la prima volta negli anni 90 da due scienziati russi che sono gara jeve popolini questo esperimento poi stato fatto e rifatto più volte è conosciuto come l'esperimento del dna fantasma sarò molto semplice ovviamente non entriamo i tecnicismi anche perché poi l'esperimento è stato fatto rifatto più volte sono emersi altri aspetti altre dinamiche restiamo nel concetto di base di questo esperimento allora molto semplicemente cosa avvenne fu presa una provetta una provetta sì insomma per quanto possa essere chiamata provetta perché qui parliamo del microcosmo che cosa successe fu presa questa provetta quindi un contenitore in qualche modo chiamiamolo così fu messo sottovuoto quindi privato di qualsiasi cosa anche di aria ovviamente quindi qualsiasi tipo di molecola in realtà mettendo un un recipiente sottovuoto in questo modo l'unica cosa che rimane all'interno di questo recipiente sono i fotoni ok cosa sono i fotoni molto semplicemente sono le particelle di luce che sono studiate sia come particelle che come onda ma fondamentalmente sono alla base della materia ecco ok quindi è il mattone fondamentale della materia sono particelle di luce per capirci quindi messo sotto vuoto questa provetta rimase all'interno di questa provetta questo questo ordine sparso immaginiamoci una nuvoletta di fotoni per capirci ok in ordine sparso quello non può essere eliminato cosa 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 fu fatto quale fu l'esperimento fu preso un campione di dna e messo all'interno della provetta ebbene cosa successe che da lì a poco i fotoni che erano in un ordine sparso all'interno di questo recipiente assunsero o meglio replicarono l'elica del dna campione messo all'interno della provetta quindi cosa successe che l'inserimento di questo campione molto semplicemente era un'informazione che è stata calata in questo ambiente e l'informazione fu data all'esterno in qualche modo non si sa bene come beh in breve cosa successe che questi fotoni è come se avessero ricevuto l'ordine diciamo così di replicare il dna cioè hanno nel momento in cui questo campione di dna è stato inserito dentro la provetta ebbene i fotoni hanno reagito quindi l'ambiente ha reagito teniamo conto che il alla base della materia alla base degli eventi alla base di qualsiasi cosa ci sono i fotoni c'è la luce ecco questo è bellissimo pensare anche a questo concetto che alla base di ogni ogni cosa è fatta di luce vabbè non entriamo qui in altri argomenti che potrebbero ispirare ecco non è tema di oggi però è affascinante molto affascinante questo argomento quindi insomma cosa cosa successe non contenti tolto questo campione di dna i fotoni dopo aver assunto quest'ordine quindi dopo aver replicato dopo aver creato questo questo dna di luce ecco perché parliamo di modellamento cioè si modella l'ambiente esterno ebbene ci mise circa 30 giorni a ritornare al suo ordine sparso ok quindi questo è la relazione che c'è tra per sommi capi ripeto tra il dna e l'ambiente esterno cosa possiamo pensare da questo possiamo iniziare a pensare che il dna in qualche modo influenza l'ambiente esterno non va a influenzare magari proprio la materia cioè non può influenzare questo tavolo su quale io ora sono poggiato influenza il livello diciamo così più sottile più energetico quello che è più volatile in qualche modo e questo può essere capibile però solo attraverso l'esperienza quindi questo è un processo scientifico è un esperimento scientifico ripeto rifatto più volte oggi ha tante altre sfaccettature ma il concetto rimane di base questo che ci spiega ci mostra la relazione fisica tra il dentro e il fuori ok quindi questo è diciamo la fase ultima di questo processo partiamo quindi dall'inizio che cosa accade dentro l'uomo dentro l'uomo accade che la mente il cervello ha una serie di pensieri cosa accade che l'amigdala c'è una ghiandola all'interno del nostro cervello che circa al centro che si occupa di gestire le emozioni molto semplicemente che è una ghiandola primordiale si chiama amigdala viene chiamata amigdala arriva dal greco amigda credo adesso non ricordo bene che significa mandorla perché proprio la forma di una mandorla ebbene questa ghiandola si occupa di trasformare i pensieri in molecole di trasformare i pensieri in sostanza in qualcosa di di fisico ok sono informazioni possiamo definirle quindi cosa succede che la nostra mente continua a lavorare all'interno di un set di un mindset di di un set di pensieri una tipologia di pensieri questa tipologia di pensieri non fa altro che spingere l'amigdala a creare una tipologia di informazioni ben specifico ora immaginiamo che abbia la forma del noi abbiamo pensieri positivi abbia la forma del più magari una forma triangolare io faccio sempre questo esempio qui quindi crea diciamo questa informazione questa molecola cosa accade che l'amigdala trasforma i pensieri in molecole in sostanza fisica e non fa altro che inviare questa sostanza questa molecola all'interno delle cellule e di tutte le cellule del nostro corpo fate conto che noi abbiamo qualcosa come 50 mila siamo una comunità di 50 mila miliardi di cellule circa insomma e ogni cellula vive è un essere vivente che ha il suo ciclo ogni parte del nostro corpo ha una ciclicità diversa insomma la pelle ha una vita media di 30 giorni si ricicla ogni 30 giorni i muscoli circa 6 7 8 mesi l'apparato scheletrico dipende dall'età può arrivare dagli 8 mesi agli 8 anni insomma dipende sono tanti aspetti quello che ci interessa stasera è capire che i pensieri si trasformano da i pensieri che sono eterici sono molto volatili si trasformano in materia quando si trasformano in materia non attenzione il singolo pensiero quando c'è una tipologia di pensieri perché il singolo pensiero arriva e fugace va quando noi restiamo su una tipologia di pensieri abbiamo in realtà un modello di pensiero quindi se siamo positivi mettiamola così per dirla semplice creeremo delle proteine delle sostanze creeremo delle sostanze creeremo delle molecole se tendiamo a essere negativi ne creeremo delle altre ok quindi cosa succede succede che l'amidala invia queste informazioni alle cellule ok quando queste informazioni queste molecole arrivano nelle cellule si trasformano in proteine questo è un dettaglio che in questo momento può non è non è rilevante che cosa succede che queste informazioni quindi queste proteine vanno a influenzare il dna in che modo cambiando la sua torsione quindi se noi viviamo delle emozioni o un modello di vita di pensiero che è positivo che è propositivo tendenzialmente le informazioni che invieremo alle cellule porteranno il dna ad allentarsi ad allargarsi quindi a immaginiamo che questa sia la torsione del dna la torsione di dna non farà altro che allentarsi al contrario per emozioni negative di paura eccetera le informazioni porteranno il dna cioè danno proprio l'informazione dna per stringersi quindi la sua torsione tenderà a stringersi pensiamo anche una cosa interessante quando noi viviamo situazioni brutte difficili di chiusura tendiamo a chiudersi proprio come fa il dna nel momento in cui viviamo situazioni di apertura siamo aperti siamo leggeri siamo aperti alla vita e l'elica del dna è più aperta è fantastico questa cosa quindi insomma le nostre parole arrivano anche dal nostro corpo ovviamente quindi che cosa succede come ultimo processo se è vero questo esperimento che è stato riportato più e più volte la torsione del nostro dna va a lavorare sull'ambiente esterno sull'ambiente circostante quindi va a lavorare sui fotoni che ci circondano ecco in questo modo che cosa succede succede che diamo forma modelliamo la realtà che ci circonda quindi il processo di modellamento della realtà il processo di attrazione processo di principio d'affinità chiamatelo come volete in realtà è un processo fisico e tiene conto anche di uno spazio fisico e anche di un tempo chiaramente è importante quindi capire questo meccanismo che è il corpo a dar forma a una realtà piuttosto che un'altra ecco perché sono le nostre emozioni che governano questi processi perché perché le informazioni che vengono inviate molto semplicemente sono istruzioni per dire alle nostre cellule come stare e creano il nostro stato d'animo nel momento in cui noi abbiamo degli atteggiamenti negativi di paura la migdala invia informazioni e dice alle cellule come stare come fanno le cellule a creare questo processo semplicemente lavorano sulla torsione del dna ecco per dirlo in modo semplice quindi il nostro dna ci dice come stare cioè fondamentalmente è l'informazione che viene acquisita per capire come emotivamente dobbiamo stare ecco molto semplicemente la torsione del dna non fa altro che influenzare poi l'ambiente esterno quindi questo è un processo che ci permette di comprendere come avviene questo modellamento è un processo fisico chimico e biologico ora questo processo è il risultato realtà di uno studio non di una cosa sola ma le fonti sono più di una ad esempio una delle fonti è sicuramente l'esperimento del dna fantasma un'altra fonte è il lavoro della dottoressa kanda spurs che è morta tre quattro anni fa se non erro che ha fatto questo libro bellissimo che se non ricordo male si intitola la chimica delle emozioni o le mole o le emozioni delle molecole delle emozioni non ricordo bene mi sembra che sia la chimica delle emozioni in ogni caso se scrivete kandacepearce ecco quindi kandaspers trovate insomma questo questo libro e spiega proprio questo meccanismo di come di qual è la chimica delle emozioni di come queste proteine lavorano di come la migdala invia informazioni e lavora sul dna ora che cosa succede succede una cosa affascinante ossia che in funzione della quantità di informazioni che noi inviamo mettiamo che inviamo l'ottanta per cento di informazioni negative perché siamo negativi ecco mettiamola così cosa succede succede che le cellule quando si rigenerano la figlia la cellula figlia a memoria delle informazioni ricevute dalla cellula mamma quindi se noi abbiamo inviato una serie di informazioni negative la cellula figlia si predispone per ricevere più informazioni negative che positive ecco perché è così difficile il cambiamento perché un fattore biologico nel momento in cui noi cambiamo atteggiamento le cellule non sono pronte a ricevere le nuove informazioni o perlomeno non sono pronte anche se hanno recettori per qualsiasi tipo di informazione però hanno quantificato cioè ad esempio se ho inviato l'ottanta per cento di informazioni negative le cellule arrivano predisporsi per l'ottanta per cento di informazioni che noi reputiamo negative ma per loro sono informazioni e il 20 per cento per informazioni positive chiamiamole proteine negative e positive ok quindi per informazioni triangolari piuttosto che quadrate ovviamente se noi cambiamo atteggiamento la mente cambia ok l'amidala processa questi processa queste informazioni invia altre altri strumenti invia altre informazioni però il corpo non è pronto a riceverle e quindi è necessario un tempo biologico per effettuare anche questo cambiamento di mentalità qual è il cambiamento biologico qual è questo tempo dipende dalla rigenerazione cellulare del corpo in ogni caso le informazioni che vengono date fuori all'esterno sono comunque date dalle emozioni che noi ci portiamo a vivere il problema però qual è che diciamo così il corpo va in deficit va in deficit di sostanze va in in carenza in carenza di proteine negative chiamiamole così è molto brutto dirlo così però va in carenza quindi cosa fa richiede le informazioni che riceveva prima arriva un certo punto e dice oh ma qui mi stai mandando le cose sbagliate quindi il corpo fa resistenza in questo senso ma perché non è pronto quindi cosa dobbiamo fare noi in quel momento quindi qua stiamo aprendo anche un'altra parentesi dobbiamo mantenere la costanza per mantenere un atteggiamento diverso se vogliamo lavorare sul cambiamento perché dobbiamo dare il tempo al nostro corpo di cambiare di rigenerarsi perché saranno le nuove cellule che poi richiederanno le informazioni adeguate e quindi avrò un nuovo corpo perché noi comunque ogni cinque anni abbiamo un corpo completamente nuovo la pelle ci mette tipo 30 giorni quindi diciamo che le convinzioni sono cellulari questo ci fa capire che le cose di cui siamo convinti sono sono all'interno delle cellule la memoria è cellulare anche l'atteggiamento è diventa cellulare quindi la nostra pelle si rigenera in 30 giorni quindi diciamo che superficialmente iniziamo ad avere un cambiamento nei primi 30 giorni un cambiamento reale i muscoli ci mettono di più 7 8 mesi quindi a volte per cambiare un atteggiamento è necessario un po' di tempo sì è vero diciamo che tutto dipende dall'età dalla predisposizione del fisico ci sono tanti presupposti ecco questo comunque ci fa capire anche la resistenza da dove arriva questo comunque ci fa capire che il nostro corpo invia informazioni all'esterno in realtà le riceve anche ma non ne parliamo stasera quindi il corpo diventa un'antenna diventa lo strumento che noi utilizziamo per inviare informazioni all'esterno e da questo punto di vista gli eventi che accadono sono inesorabilmente una verità assoluta una verità implacabile cioè gli eventi non mentono e quindi quando noi ci troviamo davanti a qualcosa se crediamo di essere cambiati sotto un certo punto di vista ci accorgiamo ad un certo punto che forse ancora non lo siamo completamente qui si evince anche un fatto molto importante che sono le emozioni profonde che vanno a modellare gli eventi che ci circondano perché a volte accadono e questo ne abbiamo già parlato a volte accadono situazioni che noi non vorremmo anzi proprio quelle che non vogliamo accadono perché perché sta lavorando magari una paura sta lavorando una convinzione profonda di non meritare insomma lavorone ok su questo aspetto è necessario lavorare in profondità o perlomeno iniziare a lavorare sulle proprie convinzioni come fare per cambiarle eccetera eccetera ebbene gli eventi quindi diventano uno specchio cioè noi abbiamo in faccia le nostre cose più profonde è inesorabile è implacabile è una verità assoluta e quindi lì non ci possiamo esimere da questa verità solo se ne comprendiamo gli effetti ok quindi riassumendo qual è il processo tipologia di pensieri perché non è uno solo tipologia di pensieri passano attraverso l'amigdala l'amigdala processa queste informazioni e invia delle informazioni delle molecole chiamiamole già proteine anche se in realtà diverranno dopo proteine quindi il pensiero diventa proteina all'interno del corpo la proteina quindi l'amigdala fa venire il miracolo trasforma l'eterico in materico trasforma l'aria ecco in ciccia in materia quindi cosa cosa succede queste informazioni queste proteine dicono alle cellule come stare lavorano sulla tossione del DNA del DNA e il DNA lavora sull'ambiente esterno ecco come avviene il processo di modellamento degli eventi abbiamo fatto diverse serate con con un titolo sempre simile però l'abbiamo cambiato tipo perché non accade ciò che voglio perché accade ciò che non voglio oggi stasera abbiamo fatto perché accade ciò che voglio quindi è tutto fa tutto parte della stessa conoscenza dello stesso meccanismo quindi stasera ho cercato di trasmettervi un po' qual è il risultato anche delle ricerche fatte personalmente perché questo tipo di processo non si riesce poi proprio a trovare come informazioni è necessario uno studio e abbinare diverse diverse conoscenze diverse fonti diverse fonti ed è importante iniziare a comprendere qual è questo processo che si concatena l'uno all'altro per portarci poi all'esterno da questo punto di vista il corpo diventa un'antenna quindi in realtà riceve anche informazioni ma non ci non parleremo stasera di questo perché ci interessa capire qual era il processo ecco quello di cui abbiamo parlato stasera in realtà serve per soddisfare la mente per dare un approccio razionale per evitare che la mente possa boicottarci e possa portarci a non credere perché perché questo è un processo logico ha una sequenza logica ha un senso ed è riscontrabile diciamo razionalmente ok spero di essere stato anche stasera abbastanza semplice perché amo toccare questi argomenti ma riuscire a entrare nel riuscire a semplificarli non è semplice quindi spero di riuscire in questa avventura perché per me è proprio un'avventura questa bene vediamo se sono stato perfetto con i tempi sto diventando bravissimo sto diventando bravissimo diamo spazio a qualche domanda se c'è sapete che siamo indifferita di una decina di secondi se avete scritto delle domande adesso licia me le leggerà altrimenti iniziate a scriverle allora licia c'è qualche domanda intanto allora luca intanto che arrivano le domande ti leggo due messaggi allora jasmina e quando parlavi del libro sembra che abbia scritto il titolo molecole di emozioni ah ok può essere bene ok grazie jasmin perfetto sono i vari saluti poi ecco sempre jasmina dice anche gioia dispensa nel libro cambia l'abitudine di essere te stesso spiega bene questo processo sì esatto esatto non spiega però il processo esterno esatto questo processo arriva questa conoscenza da canda spurs quindi se volete andare dritti alla fonte andate lì che che trovate molecole di emozioni appunto quindi ok bene grazie scusami luca no 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 volevo volevo ringraziare jasmin che ha che ha messo le notifiche perché non ricordavo antonella e chiede dice buonasera per chi come me soffre di attacchi di panico e quindi poi entra nel vortice della paura come può cambiare la situazione allora antonella 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 allora antonella ti chiedo gentilmente per favore e ti chiedo di farlo di scrivermi una mail accademia chiocciolevolutiva punto email così te lo scrivo perché è un lavoro importante da fare ok è un lavoro importante da fare perché il problema è proprio nell'iperventilazione quindi è più un fattore biologico è chiaro che qui se si vuole andare alla radice si bisogna capire cos'è che ti porta ad avere l'attacco di panico è ovvio no ovviamente però qui si può lavorare anche con la respirazione e questo non è legato a questo processo cioè ci lavoriamo con il corpo iniziamo a lavorarci con respiro quindi ti do proprio un esercizio perché sarebbe un po lungo adesso spiegarlo però veramente ti esorto di scrivere una mail ok perché così ti scrivo proprio un modo per iniziare a lavorare su questa cosa qua bisogna lavorarci con respiro ok fondamentalmente perché il problema è l'eccesso di anidride carbonica che c'è dentro perché in realtà cos'è che respira il polmone o il cervello in realtà il polmone quindi il problema dell'attacco di panico è dato da da un eccesso di anidride carbonica perché il corpo va in acidosi quindi lì bisogna fare un altro tipo di lavoro utilizzare una tipologia di respirazione ecco quindi se tu mi scrivi io ti do proprio l'esercizio da fare e ti esorto proprio a farlo costantemente a farlo più volte ok quindi ci lavoriamo biologica fisicamente proprio attraverso un esercizio certo è che qui bisogna capire profondamente cosa fa partire tutto questo perché tu puoi anche risolvere questa cosa però lavorando diciamo così quando lavoriamo col corpo siccome il corpo non può mentire questo ce lo dice la comunicazione non verbale ci dice che il corpo non può mentire significa che è strettamente legato alla parte più inconscia ok perché noi non abbiamo un controllo sul corpo c'è sempre qualcosa che tradisce quindi il corpo tende sempre a dire la verità da questo punto di vista è capibile il fatto che il rapporto sia univoco quindi se io lavoro sul corpo lavoro anche sull'inconscio quindi ho uno strumento pratico è come se il corpo fosse un una tastiera su cui lavorare per lavorare sulle strutture inconsce allora lavorando su questo quindi questo esercizio che poi ti darò ti permette ovviamente di lavorare sulla parte inconscia anche su tutto il meccanismo che c'è dietro è vero però che gli viene richiesto un lavoro importante per capire da dove scatta questo meccanismo perché bisogna andare alla radice noi andiamo a curare il tronco i rami facendo così e va bene è un sos non si dice terapeutico non si può dire è un sos diciamo salvifico mettiamola così ok però bisogna lavorarci su ok grazie Antonella della domanda intanto lì c'è qualche altra cosa spero di aver risposto insomma comunque scrivimi mi raccomando Luca allora Matteo dice chiede ci consigli di coltivare le emozioni tramite affermazioni e visualizzazione allora allora quando parliamo di emozioni allora le affermazioni positive aiutano sicuramente dobbiamo solo stare attenti a non creare un pagliativo cioè mi spiego meglio ci sono alcune emozioni che devono essere essere viste cioè devono devono essere scusatemi devono essere svelate l'affermazione positiva mi aiuta a scegliere perché la mente sceglie una realtà piuttosto che un'altra sì ma se io fuggo dalle emozioni quelle di paura eccetera non vuol dire che non avvenga questo è il motivo per cui avvengono situazioni che non vogliamo ok perché non abbiamo sanato quella parte lì quindi è importante entrarci le affermazioni positive l'atteggiamento positivo va bene diciamo così pensiero positivo era un modello degli anni 80 90 che va bene per iniziare va bene va benissimo perché ci aiuta però poi ci viene chiesto se andiamo avanti e vogliamo approfondire queste dinamiche ci viene chiesto poi di entrare nel profondo con i tempi giusti entrare però nel profondo per andare a trasformare le emozioni che ci portano un limite qui non si tratta solo di spostare l'attenzione perché se io ho un giardino ho un bellissimo giardino e c'è una parte di questo giardino che non mi piace io tendenzialmente questo giardino lo chiudo ok cosa succede che io non lo vedo più e vedo il giardino bello eccetera eccetera ma non è che è sparita con la parte di giardino lì quindi il rischio delle affermazioni positive dico rischio attenzione il rischio delle affermazioni positive è quello semplicemente di non voler vedere quel giardino quel pezzo di giardino perché quel pezzo di giardino continuerà a crescere e le ombre perché noi teniamo in ombra qualcosa in ombra significa non che è brutto significa che noi non vogliamo vederlo l'ombra manifesta se stessa perché esiste non è che non c'è c'è una parte di noi che continua a lavorare noi non ce ne accorgiamo prima o poi saranno saremo chiamati ad aprire questo cancello e entrarci ma con il problema è solo giudizio cioè se noi eliminiamo il giudizio ci entriamo con semplicità in questo in questo meccanismo ok quindi le affermazioni positive aggiungerei che dipende da come vengono usate se vengono usate per cambiare completamente atteggiamento ecco non so ci aiutano in quel momento ma non hanno cancellato il resto se invece le utilizzo come atteggiamento positivo tipo per entrare in quella parte di giardino non so diciamo l'affermazione positiva è io accetto e accolgo il mio giardino la mia parte di giardino che non mi piace ecco questa è un'affermazione positiva un conto è se è io guardo solo il mio il mio bel giardino io guardo solo la parte del mio bel giardino ecco questo è un'affermazione perché le affermazioni positive sono uno strumento come tutte le altre cose ok dipende da come vengono usate ok bene grazie Matteo giusto Matteo Matteo ok grazie per la domanda spero di aver spiegato è la mia opinione ma è una sperimentazione fatta anch'io perché ovviamente è una ricerca di strumenti costante ok lì c'è se ce n'è ancora una Maria Angela Maria Angela i neuroni specchio hanno un collegamento con quello che hai detto ripeti perdono perché ti ho parlato sopra sulla prima parte i neuroni specchio hanno un collegamento con quello che hai detto allora con quello se per quello che ho detto intendi il processo di manifestazione no i neuroni specchio hanno la funzione di diciamo così usiamo le parole semplici di rispecchiare qualcosa che hai visto ecco sono l'origine i neuroni specchio non centrano in questa cosa ecco fondamentalmente in questo processo i neuroni specchio sono diciamo quella struttura neuronale che ci permettono di riportare di ricreare qualcosa che abbiamo visto quindi di ripetere o di non dico imitare ma di ricostruire di simulare qualcosa che abbiamo visto e questo non c'entra nulla secondo me meno con questo processo perché è ancora prima del discorso ambientale questo fa parte di tutto il processo cognitivo ok quindi tutto il processo di elaborazione di dati neuronale ecco questo questo sì è tutto legato comunque al circuito sinaptico eccetera 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 in ogni caso no non non influisce su questa cosa qua certo che è uno strumento che abbiamo ecco per poter sopravvivere nel mondo ok bene direi quindi fine lì già io ti intanto ti ringrazio per essere ci sei ancora sì io che ringrazio te luca sempre interessante interessante insomma diciamo che gli argomenti sono alla portata di tutti quindi insomma noi ci impegniamo a divulgare un'opinione più che altro un'opinione basata su un'esperienza quindi bene ragazzi allora io vi auguro una buona serata grazie a tutti per essere stati anche stasera il clune di sera live fantastico fantastico mi è venuta questa illuminazione così oggi in giornata come potrei cambiare come potrei bellissimo mi piace tantissimo bene allora ragazzi io vi ringrazio ci vediamo lunedì prossimo sempre su questo filone vedremo quale argomento affrontare vi preannuncio già potete iscrivervi al gruppo viaggio evolutivo perché tra un po faremo una diretta speciale solo sul gruppo riguardo questi argomenti sarà una diretta di un'ora un'ora e mezza circa periodicamente le facciamo come approfondimenti ok quindi iniziate entrare potete entrare ci sono altri video ci sono già circa cinque ormai è un anno e mezzo di più che facciamo questo tipo di di lavoro per un anno e mezzo l'abbiamo fatto sul gruppo viaggio evolutivo quindi in realtà dopo un anno e mezzo abbiamo iniziato a a farlo diciamo così in piazza ok quindi entrate guardate e seguite poi anche le attività nel gruppo bene allora intanto vi ringrazio grazie a tutti per essere stati qui con me stasera con noi vi do un bacio grandissimo e ci vediamo lunedì prossimo buona serata e buon appetito per chi ancora non ha mangiato